C'è differenza, nel senso che il mondo femminile ha un modo di raccontarsi diverso. Poi mi è capitato ancora di vedere artisti che portano le loro opere e a volte guardandole mi viene di pensare che se conoscessi la loro tecnica sarebbe quello il modo con cui racconterei il mio mondo e provo molta ammirazione per alcuni in particolare. Il mondo maschile dell'arte mi piace molto, forse un po' di più di quello del mondo femminile.